All'inizio del secolo due emigrati italiani negli Stati Uniti, Sacco e Vanzetti, furono condannati alla pena di morte perché accusati di omicidio. Morirono sulla sedia elettrica, successivamente furono riconosciuti innocenti e venne provata la persecuzione contro i due perché erano di fede anarchica. Fu uno dei casi più eclatanti del fallimento del sistema legale americano. La legge fu usata per perseguitare e non per fare giustizia. Per fortuna, come qualche volta accade, interviene la storia. E la storia ha fatto quello in cui la legge fallì, ha fatto giustizia. Sacco e Vanzetti sono ora degli eroi. Qui in Canada abbiamo Gino Turchiaro e Tony Prete. Qualcuno li ha definiti i Sacco e Vanzetti delle emigrazioni italiane in Canada. Altri, solamente vittima di un grosso abbaglio della giustizia canadese, altri invece affermano che si tratta di una serie di cavilli legali che hanno impedito alla verità di venire piena e completa fuori. I due italo-canadesi furono accusati di aver assassinato Aldo Citton, un uomo d'affari italo-canadese rinvenuto cadavere in una strada periferica di Toronto nel 1985. Dopo due anni di carcere ed astronomiche spese giudiziarie, i due furono assolti. Essi affermano di essere innocenti e di non essere stati trattati in modo imparziale né durante le indagini né nel corso del processo. La giustizia invece ha affermato che essi sono non colpevoli in quanto non sono state raccolte prove sufficienti, ma non è andata oltre. Insomma, assolti per insufficienza di prove e non per non aver commesso il fatto. La realtà è comunque che i due sono in libertà, hanno subito danni morali e materiali ingenti. La giustizia non è riuscita a condannarli, ma non vuole assorverli con formula piena. Tony Prete ha iniziato un'altra battaglia contro il sistema legale. Vuole giustizia e due milioni di dollari. Prete e Turchiaro, perseguitati come sacco avanzetti, solo vittime di un errore giudiziario o in libertà perché il sistema non è riuscito a provare che essi non sono colpevoli. La storia di Tony Prete subito dopo questi comunicati commerciali. La vicenda di Tony Prete è stata al centro dell'attenzione della stampa italo-canadese di lingua inglese per molti anni e in base agli ultimi sviluppi è destinata a rimanerci per molto tempo. Vediamo di cosa si tratta in questo servizio preparato in cooperazione con la redazione di Telesia. Il cadavere fu rinvenuto in questa strada, una traversa di Atwell Avenue a Toronto il 19 luglio del 1985. Aldo Citton aveva due colpi di arma da fuoco alla testa. Fu visto vivo per l'ultima volta in questa abitazione nei pressi di Lawrence Avenue. Era l'abitazione di Tony Prete, suo intimo amico, che fu accusato sette mesi dopo del delitto insieme al cognato Gino Turchiaro. Essi furono arrestati il 7 febbraio dell'86, una lunga vicenda giudiziaria molto controversa. Prete e Turchiaro, detenuti al West Detention Center, fecero immediatamente domanda per ottenere la libertà provvisoria e fu negata. La richiesta di libertà provvisoria fu respinta e Prete afferma che le dichiarazioni della polizia non erano giustificate ed erano offensive verso l'intera comunità italo-canadese. Il 2 luglio dell'86 ci fu l'inchiesta preliminare. Alla fine Prete e Turchiaro furono scagionati e liberati. La polizia non fu soddisfatta e fece ricorso ad un procedimento non molto usato dalla magistratura, il preferred indictment. Si tratta di un procedimento al quale si fa ricorso molto raramente e, secondo la difesa di Prete e Turchiaro, non era assolutamente giustificato. I due furono comunque di nuovo arrestati. Prete parla di discriminazione e di persecuzione da parte della polizia. L'ufficio della Torni General dice invece di procedimento regolare in quanto nel corso dell'inchiesta preliminare si parla di sufficienza di prove o meno e non di innocenza o colpevolezza. Prete e Turchiaro verono di nuovo arrestati il 23 gennaio dell'87. Di nuovo viene respinta la richiesta di libertà provvisoria. Anche questa decisione suscitò molto scalpore. Il processo inizia nel febbraio dell'88. Ancora una volta Prete e Turchiaro furono assolti per insufficienza di prove. Nel corso del processo, ovvero dei vari processi, sono state sollevate numerose polemiche. Qualcuno ha parlato anche di discriminazione. La stampa si è già interessata molto spesso di questa vicenda. In particolare il Corriere Canadese ha recentemente pubblicato una serie di interviste con Tony Prete e la moglie. Essi hanno rivelato alcuni particolari sul processo. Altro punto controverso è una dichiarazione giurata fatta da un ex detenuto del carcere di Wealth, un certo Frank Giorgio. Gli afferma che nel corso di un interrogatorio fattogli all'interno di una stazione di polizia, gli fu detto che testualmente avrebbero fatto cadere tutte le accuse contro di me se io avessi implicato Prete e Turchiaro nel delitto di Aldo Citton. Accuse queste molto gravi. Interpellato alcuni mesi orsono dal canale 47, la Tony General Ian Scott rispose che l'autenticità delle accuse doveva essere ancora approvata. Nel corso del processo vi sarebbero state molte cose non chiare. Ad esempio alcune telefonate intercettate dalla polizia e presentate in corte non sarebbero state adeguatamente tradotte in inglese. Uno degli interpreti di parte nel corso del processo fu il professor Gianrenzo Clivio. Non so come come spiegarmi questa questa discrepanza secondo me le prove della colpevolezza non ci sono. Nel caso Prete si interessò anche il leader dell'opposizione Bob Ray il quale chiese spiegazioni all'attorno di General Ian Scott. Scott inviò una lettera al leader dell'NDP. Siamo venuti in possesso di questa lettera nella quale Scott parla della situazione familiare di Tony Prete. Ricorda che la moglie è la sorella di Gino Turchiaro e parla anche di una presunta relazione amorosa tra la vittima Aldo Citton e la moglie di Tony Prete. Dopo due anni di carcere e di costose spese legali Prete e Turchiaro sono riconosciuti non colpevoli. Le spese legali le hanno costretto a vendere la sua abitazione nei pressi di Lawrence Avenue e proprio la scorsa settimana l'ho dovuta lasciare. Non vive più con la moglie ed afferma di essere sul lastrico. Prete ha chiesto insistentemente il risarcimento danni al governo dell'Ontario ma ha ottenuto sempre risposte negative. L'avvocato Richard Stern che ha assistito Prete durante tutta la vicenda penale esprime la sua perplessità. And I would very much hope that someone would look at his situation and treat him the very same as he would be treated if he if he was a white anglo-saxon Protestant. And as we know there was a situation not long ago when a white anglo-saxon Protestant was in this in a similar situation is Mr. Prete. We're talking about Susan Nellis and she receives some compensation from the attorney general and I would hope that if he's going to be treated differently he's going to be treated differently on the merits of the case and not because he's from an Italian background. L'ufficio di Ian Scott scrive ancora a Bob Ray che il risarcimento non spetta in quanto Prete, al contrario di Susan Nellis, non è stato assolto per non aver commesso il fatto ma per insufficienza di prove. Tony Prete ha comunque denunciato l'ufficio della attorney general chiedendo un risarcimento danni per oltre 2 milioni di dollari. Il procedimento è ancora in corso. Indubbiamente, come afferma l'ex giudice provinciale Lorenzo Di Cerco, ora noto penalista, al primo sguardo sembra che tutte le procedure siano state seguite regolarmente ma aggiunge di non avere tutti gli elementi a disposizione per esprimere un giudizio compiuto. Egli aggiunge anche che l'iniziativa legale intrapresa da Tony Prete è molto difficile. Soddisfare completamente il giudice che uno, il signor Prete era non solo legalmente non colpevole ma moralmente innocente. Due, la polizia e di conseguenza il procuratore della regina sapevano che lui era innocente. E benché sapevano che loro era innocente, hanno continuato col caso. E raggiunge. Una cosa che è molto chiara, istoricamente l'abbiamo visto nel caso di Donald Marshall, l'abbiamo visto nel caso della signorina Nellis. Il sistema non vuole ammettere, uno, che hanno fatto uno sbaglio e due, non vogliono creare un precedente che se una persona viene assolta automaticamente viene ricompensata. Prete comunque è convinto di essere stato discriminato e dagli elementi dice per provarlo. Parleremo con lui e la moglie Franca, dalla quale vive separato, subito dopo questi comunicati commerciali. Guardate i prodotti preferiti di Vilma De Angelis, ciao! Come avete sentito il caso non è dei più semplici e gli ingredienti per una storia piena di suspense ci sono tutti. Odio, amore, droga, disperazione ed un cadavere di troppo. Al centro di questa vicenda Tony Prete e la moglie Franca. Essi sono con me quest'oggi in studio, grazie di aver accettato l'invito. Signor Prete, come ho detto poco fa, lei è stato assolto per insufficienza di prove e non per non aver commesso il fatto. Le faccio una domanda molto semplice. L'ha ucciso lei Aldo Cittone? No. Perché la polizia allora l'ha accusata? Perché la moglie mi ha mandato a me la polizia che non ci ha detto la verità del primo momento. E quale sarebbe questa verità che è stata riferita? Perché loro hanno portato il caso quello che aveva avuto tra io e mia moglie in corte. La moglie non ci ha detto la verità di quello che era successo.